I 14 anni italiani sono europeisti convinti, anzi hanno più fiducia nel futuro e nelle istituzioni europee che nel governo italiano. L'88% si sente parte dell'Unione Europea contro il dato medio dell'81%, il 92% è orgoglioso che il proprio paese sia un membro dell'Europa, il 74% si vede prima come cittadino europeo e poi del mondo, il 94% si sente parte dell'Europa e sempre il 94% è orgoglioso di vivere in Europa, stessa percentuale a livello europeo. Dallo studio del rapporto europeo Young Citizens Views and Engagement in a Change in Europe presentato a Roma, emerge poi che è del 70% la percentuale degli studenti italiani che hanno completa o molta fiducia nel Parlamento europeo, un dato che però è in diminuzione. Nel 2016 la percentuale era del 75% e del 79% nel 2009, il dato medio europeo è comunque molto più basso e si ferma al 62%, la percentuale di studenti italiani che voterebbero se potessero alle elezioni nazionali è dell'84% contro il 90% del 2016 e l'88% del 2009, il dato medio europeo dell'attuale indagine si ferma al 77%. Per la stragrande maggioranza degli studenti europei, infine, l'Unione Europea rende l'Europa un luogo sicuro in cui vivere e con un ruolo importante nella proiezione dei diritti umani e della libertà di parola. L'indagine ha coinvolto 18 paesi e due lender tedeschi, più di 66.000 studenti di 13-14 anni e 33.000 insegnanti di 2.800 scuole.